Minacce e moleste continue alla ex moglie, tanto da farle temere per la sua incolumità. Con le ipotesi di reato di atti persecutori, lesioni personali e danneggiamento, un 28enne del Sud Salento leccese andrà a processo. A stabilirlo, la giudice per le indagini preliminari, Tea Verderosa. Quattro gli episodi più gravi contestati, tutti risalenti alla scorsa estate. Più nel dettaglio, un giorno l'uomo, non accettando la separazione, si sarebbe presentato in casa della ex moglie e stato di ubriachezza, chiedendole chi frequentasse il motivo per cui in quel momento usciva da casa, insultandola, intimandole di non mettere piede fuori dall'abitazione. Un altro giorno le avrebbe poi tagliato tutte e quattro le ruote dell'auto parcheggiata sotto casa e poi ancora le avrebbe indirizzato messaggi dal tenore intimidatorio, minacciandola di raggiungerla nuovamente in casa sua. Calci e pugni, in un'altra occasione, avrebbero costretto la donna ad una disperata corsa verso l'ospedale, da cui è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni. Per tutti questi motivi il 28enne adesso sarà sottoposto a processo, a difenderlo l'avvocato Dario Paiano.